Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Si preannuncia complicata per Alfonso Signorini la nuova puntata in diretta del Grande Fratello. L'ultimo brutto episodio ha coinvolto Massimiliano Varrese e Rosy Chin, i quali hanno compiuto un gesto considerato dal pubblico più che negativo nei confronti di Grecia col Menares. Quest'ultima aveva fatto una richiesta molto particolare, ma a quanto pare i due non l'hanno voluta rispettare e ora stanno montando le polemiche. Nelle scorse ore, mentre tutti i concorrenti del Grande Fratello erano pronti per il pranzo, ecco che Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono apparsi soddisfatti di una cosa che poteva provocare disagi a Grecia col Menares. L'attrice non ha saputo nulla, dato che in quel momento non era ovviamente presente durante la conversazione dei suoi coinquilini, ma ora che lo scoprirà apriti cielo. Ci saranno inevitabilmente degli scontri. Un vero e proprio dispetto è stato fatto al Grande Fratello dai due geffini. Massimiliano Varrese e Rosy Chin, come è possibile ascoltare nel video di pochi secondi postato sul social X, hanno ironizzato su Grecia col Menares. La donna ha chiesto una cosa specifica per quanto concerne il cibo, infatti non può mangiare una determinata cosa per scongiurare l'arrivo di problematiche di salute che potrebbero crearle non pochi fastidi. Non può mangiare cibo piccante per evitare problemi fisici, ma Varrese ha detto a Rosy Chin, c'è il piccante? E la food blogger ha risposto, tantissimo. A quel punto l'attore è intervenuto nuovamente, grande e con fare soddisfatto. Ovviamente molti telespettatori hanno condannato questo comportamento e hanno difeso Grecia. Vediamo in particolare cosa hanno affermato alcuni utenti letteralmente imbufaliti. Una pagina decima ha scritto, ieri Grecia ha espressamente detto a tavola di non mangiare piccante per evitare di avere problemi di salute al colon e loro cosa fanno? Questa è cattiveria gratuita. E altri utenti, qua ci sarebbero gli estremi non solo per una squalifica, ma anche una denuncia di reato per lesioni fisiche, grave mancanza di rispetto, aspettano che si senta male. Che schifo!